Al momento non c'è una sede fisica per la consigliera di fiducia, si sta identificando, ma considerando la modalità ancora a distanza, la consigliera di fiducia lavora prevalentemente attraverso dei colloqui che si fanno in video e proprio su una piattaforma. A breve però una sede verrà identificata e sarà quindi accessibile in determinati orari senza che debba essere preso un appuntamento.